È iniziata la stagione 2024 di Premier Paddle, ma la notizia non è la vittoria di Lebron a Galan a Rihad, oppure quella di Coelho e Tapia a Doha. La notizia che ha scioccato il mondo del padel è la separazione tra Ale Galan e Juan Lebron durante il torneo di Doha. Premetto che questo video non è preparato, andrò molto a braccio, perché avendo vissuto a Doha il primo major della stagione, ho potuto parlare con altri colleghi, anche con alcuni giocatori, e capire cosa è successo tra Galan e Lebron e cosa succederà. Per Galan già si sa perché giocherà con Fede Cingotto e cosa succederà soprattutto per Juan Lebron, che ora si ritrova senza compagno. Facciamo però prima un salto indietro al 2023. Sì, perché già nel 2023 Juan Lebron e Ale Galan sembravano prossimi alla separazione, a fine stagione dopo il master finale. Nell'ambiente del padel non si parlava d'altro che del passaggio di Ale Galan con Fede Cingotto e si cercava di capire chi sarebbe stato il futuro compagno di Juan Lebron con la prima scelta, dopo il no di Pachito, che sembrava essere quella di Juan Tejo. Perché già lo scorso anno Juan Lebron ha chiamato Pachito Navarro per tornare a giocare con lui, ma Pachito ha detto no all'obbo perché aveva già dato la sua parola a Sancho Gutierrez, con cui ha iniziato la stagione 2024 con bassi e qualche alto a dose, vogliamo parlare alto, la semifinale raggiunta nel primo major della stagione. L'emblematico proprio di Pachito è quel Te Dejo a Fede, sussurrato nell'orecchio di Ale Galan dopo la finale del master finale, vinta a Barcellona proprio da Pachito Navarro e Federico Cingotto. Solo che poi abbiamo scoperto che subito dopo quelle parole, sussurrate all'orecchio, Galan ha detto a Pachito nello spogliatoio che avrebbe continuato al fianco di Juan Lebron. Infatti l'annuncio della continuazione della coppia Lebron-Galan arrivò il giorno seguente, lunedì dopo la finale del master finale. Una notizia che sicuramente lasciò di stucco tanti e soprattutto lasciò di stucco Federico Cingotto che dava per scontato il passaggio con Ale Galan e che si è ritrovato, almeno per i primi due tornei della stagione, con Momo Gonzalez, un gran giocatore che aveva deciso di rispostarsi a sinistra dopo l'esperienza a destra con Javi Garrido, ma una coppia che però mancava qualcosa a livello offensivo e lo si è visto nei primi due tornei della stagione a Doha contro i Super Pibes e ha visto un Cingotto davvero in difficoltà e un Momo Gonzalez che ha sì fatto il suo ma non a livello di stupa o di nenno. Lo scorso anno Lebron e Galan hanno deciso di continuare, sicuramente con la pressione degli sponsor, ricordiamo che entrambi hanno sul cappellino e sulla maglietta Red Bull uno sponsor importantissimo che quest'anno è entrato anche in Premier Paddle come broadcaster ufficiale di quarti, semifinali e finali in quasi tutto il mondo, compresa l'Italia. Le pressioni anche della stessa M3 Paddle Academy dove i due si allenano e dei loro coach, dei loro amici, perché hanno capito che la coppia Ale Galan o Alebron sarebbe stata l'unica in grado di competere per tutta la stagione con i Super Pibes e con Arturo Coelho e Agustin Tapia che hanno dominato l'annata 2023, almeno fino a luglio, faticando poi dopo le feste estive dove hanno portato a casa un solo torneo. Mentre Galan e Lebron, ripresosi di Lebron dal grave infortunio al gomito, hanno veramente dominato la parte finale della stagione perdendo praticamente solo la finale del master final contro Cingotto e Pachito. Quindi i due hanno deciso di giocare insieme, hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi perché hanno vinto il torneo di Riad anche con abbastanza autorità. Poi cosa è successo però a Doha? A Doha dopo aver vinto la prima partita si sono scontrati contro Mike Jangwas e Javi Garrido e lì è successo il patatrack perché nel corso della partita Lebron provocato spesso da Jangwas è uscito fuori di testa arrivando a lanciare una pallina contro la grata in direzione Jangwas, una pallina che non avrebbe mai colpito il neo giocatore di Locke. Uscendo dal campo Juan Imieres, coach di Jangwas e Garrido, ricordiamo ex compagno di Ale Galan agli inizi della carriera del madrilegno, si è alzato ed ha, come si dice a Roma, imbruttito Lebron. I due sono avvenuti quasi alle mali, sono stati separati con Jangwas e Garrido che chiedevano all'arbitro la squalifica di Lebron. La partita poi è finita male per Lebron e Galan che hanno perso, con Lebron che ha continuato a fare parecchio trash talking nei confronti dei giocatori e nei confronti di Juan Imieres, è finita con Garrido e Jangwas che sono arrivati dopo un'ora dalla fine della partita in conferenza stampa con due bodyguard enormi al loro fianco e tutti siamo rimasti stupiti e ci hanno detto che in realtà Lebron li avrebbe inseguiti quasi fino alla sala stampa per dirgli qualcosa. Durante la conferenza stampa tra l'altro Juan Lebron continuava a chiamare Avi Garrido. Sport ha anche riportato che addirittura Garrido e Jangwas dopo la conferenza stampa sono stati scortati dalla polizia all'hotel, sono stati guardati a vista, a cena, per tutta la nottata e fino all'indomani dai due bodyguard. Però c'è anche da dire che questa storia è stata molto romanzata soprattutto lì a Doha perché poi Galan e Lebron hanno lasciato subito la città del Medio Oriente per fare ritorno a casa. Dopo due giorni di completo silenzio la bomba lanciata da 20 DS nella notte tra giovedì e venerdì. Ale Galan ha deciso di separarsi da Juan Lebron. Il giorno dopo è arrivato prima il comunicato di separazione di Cingotto e Momo Gonzales in cui Cingotto ringraziava il giocatore Malaghegno e subito dopo è arrivato un comunicato streaming sito molto freddo da parte di Ale Galan che annunciava la separazione da Juan Lebron. Vi leggo ora il messaggio di Galan tradotto in italiano. Voglio dirvi che ho preso la decisione di separarmi da Juan. Non è stata una decisione facile ma è molto ponderata. Voglio ringraziare Juan per i quattro anni che abbiamo condiviso insieme. Sono stati indimenticabili. Ti auguro di cuore il meglio per il tuo futuro. Juanito, un forte abbraccio. Davvero un messaggio molto streaming sito di Galan che subito dopo, dopo poche ore, ha annunciato con un posto condiviso l'unione con Federico Cingotto. I due hanno già fatti i primi allenamenti e dovrebbero questa non è notizia certa continuare ad allenarsi alla M3 Padel Academy dove si allenava Ale Galan mentre dovrebbe aver lasciato la M3 Academy o meglio la lascerà Juan Lebron che, ricordiamo però, giocherà insieme ad Ale Galan il torneo di Acapulco perché i due erano già iscritti e le iscrizioni erano chiuse. Fermo restando che Lebron potrebbe rischiare una squalifica per quanto accaduto a Doha tutto per la lite con Mieres, Yanguas e Garrito ma questo lo deciderà Giudice Arbida ancora non è arrivata al momento di questo video alcuna comunicazione. L'addio di Lebron a Galan è stato sicuramente molto più emozionante ed intenso e devo dire che mi ha commosso e mi ha strappato anche una lacrima non mi vergogno a dirlo queste le parole del Lobo Galanciu, riassumere tutto quanto su Instagram non è facile grazie per tutto quello che abbiamo vissuto in campo e fuori in questi 4 anni abbiamo iniziato come due ragazzi e abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi grazie a te e alla tua famiglia, alla squadra, agli amici per essere stati sempre con noi abbiamo contato sulle persone migliori intorno che ci hanno aiutato ad arrivare in cima penso che entrambi sarebbe piaciuto un altro addio ma rispetto la tua decisione e ti auguro il meglio ringraziamo Mariano, Horg e tutta la squadra M3 che sono sempre stati con noi questa grande avventura non la dimenticherò mai è stata una delle tappe più importanti della mia carriera grazie a tutti per il sostegno che ci avete sempre dato nel bene e nel male questo è un classico messaggio alla Lebron che fa vedere che è un ragazzo comunque di cuore in campo potrebbe sembrare antipatico spesso nervoso ma è un ragazzo che davvero ci mette il cuore e l'anima in tutto quello che fa nel padel perché è la sua ragione di vita e questo messaggio fa capire quanto tenesse all'unione con Galan e quanto abbia capito di aver fatto un grosso errore perché per Galan la scenata nel match contro Yangua Segarides è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso già lo scorso anno Galan era arrivato al limite della sopportazione con Lebron e come detto prima appunto forse per una forte pressione di sponsor amici, familiari e anche allenatori ha deciso di continuare al fianco del Lobo Lebron che poi ha anche rilasciato un'intervista verità a Jesus Mata di Marca in cui veramente si è svestito le sue vesti ha chiesto pubblicamente scusa non solo a Galan ma a tutti gli appassionati del mondo del padel per il suo comportamento che ha detto che non è all'altezza di uno sportivo professionista quindi si è scusato ed era molto triste per quello che era accaduto in campo vi leggo una piccola parte di quello che Lebron ha detto nel corso dell'intervista a Marca mi pento molto di quello che ho fatto tutto quello che si è visto non riflette la persona che sono e anche come professionista non sono stato all'altezza sono molto triste con me stesso, con i miei sponsor, i miei amici chiedo perdona ad Ale, a Jorge Martinez, alla M3 al mio equip, ai miei genitori, ai miei rivali e chiedo scusa a tutti gli appassionati del padel perché questa è una cosa che non deve accadere e non accadrà più e prometto che migliorerò Lebron ha anche spiegato com'è stato l'addio da Galan subito dopo la partita i due sono andati in aeroporto insieme Lebron ha chiesto di parlare ad Ale Galan ma poi hanno deciso di prendersi un attimo di distanza un attimo di pace di poter pensare a mente fredda su quello che era appena accaduto il giorno dopo i due si sono allenati insieme e Lebron ha chiesto ancora a Galan di parlare ma Galan gli ha negato la chiacchierata poi Lebron ha detto che il giovedì pomeriggio ha ricevuto la chiamata di Ale Galan che gli ha comunicato la sua decisione di volersi separare il venerdì il giorno in cui la notizia era già diventata ufficiale anche se mancava l'ufficialità da parte dei due protagonisti la M3 era piena di gente come non mai per vedere i due che si sono comunque allenati insieme non parlandosi molto sono allenati insieme perché come detto i due giocheranno ad Acapulco il prossimo torneo di Premier Paddle mentre non giocheranno insieme a Puerto Cabello in Venezuela perché Lebron sarà al fianco di Momo Gonzales mentre Ale Galan inizierà la sua avventura con Federico Cingotto dopo aver montato il video sono arrivate le parole di Ale Galan per la prima volta ha dato la sua versione sulla rottura con Juan Lebron Galan ha parlato a El Partitazo de Coppe queste le sue parole Le coppie si dividono ma la mia non è stata una decisione sportiva il giocatore di Madrid ha quindi confermato che la decisione di separarsi da Juan Lebron non è stata per i risultati in campo come abbiamo detto i due hanno vinto ben 33 tornei tre tornei in quattro stagioni e due tornei ma con Juan abbiamo segnato un'epoca che tutto il padel ricorderà Lebron è una persona eccezionale di grande temperamento un comportamento come quello di Doha non l'aveva mai avuto se ne è accorto e mi ha chiesto subito scusa dopo la fine della partita ha aggiunto il madrilegno sono uscito dal campo con la tristezza di essere uscito in un Major che è uno dei quattro tornei più importanti della stagione con brutte sensazioni di gioco e per quello che era successo in campo non è stato un giorno facile sono subito scappato all'aeroporto e preso il primo volo disponibile in aeroporto Lebron mi ha chiesto scusa ancora poi il giorno dopo ci siamo allenati insieme ma non ero contento ed è stato un sentimento che provavo già da tempo e sentivo il bisogno di avere nuove sfide dopo l'allenamento ho parlato con le persone a me vicine e ho preso la decisione Juan mi ha mandato un messaggio dicendomi che voleva ancora parlare con me per chiarirsi e voleva continuare a giocare con me noi non avevamo mai parlato di rompere la coppia appena ho deciso l'ho chiamato e gli ho comunicato tutto la situazione sicuramente l'ha colto di sorpresa ma era una decisione che avevo valutato attentamente ed ho pensato che separarsi fosse la soluzione migliore il giorno dopo ci siamo allenati ma è stato un allenamento molto freddo e poi ha ammesso di aver parlato faccia a faccia con Juan Lebron dopo l'allenamento abbiamo parlato solo noi due sentivo che era il momento di chiudere questo progetto quello che abbiamo fatto nel padel sarà ricordato ha detto Galan che poi ha parlato di Fede Cingotto dicendo che Cingotto è stata la sua prima scelta Cingotto è la prima persona che ho chiamato dopo la separazione da Juan Lebron queste le parole di Galan al partitaso delle coppe che ha spiegato appunto la sua versione della separazione con Juan Lebron negli ultime ore sono arrivate tante domande ma Galan si è pentito della sua decisione si pentirà Galan e Cingotto sono a livello di Coelho e Tapia hanno spianato la strada per il dominio di Coelho e Tapia questo sarà soltanto il campo a dirlo ma io posso dire che Galan e Cingotto sono una coppia veramente ben assortita sarà molto diversa da quella Galan Juan Lebron che sulla carta è nettamente più forte soprattutto per le doti non solo difensive ma anche offensive di Lebron però vedremo sicuramente un Galan che giocherà a testa libera un Galan sereno che tornerà a giocare con il sorriso e se già senza sorriso ultimamente stava davvero dominando immaginiamo e pensiamo quello che potrà fare in campo nei prossimi tornei Cingotto è la scelta definitiva di Galan un ritorno di Galan Lebron è improbabile non solo a breve termine ma anche a medio termine ma anche a lungo termine cioè se proprio sarà a lunghissimo termine quando magari due chiuderanno la carriera e magari vorranno chiuderla insieme Galan e Lebron saranno comunque ricordati come una coppia storica che ha cambiato il gioco del padel come hanno fatto seppur in 13 anni Fernando Belasteghin e Juan Martin Diaz in quattro anni e due tornei la coppia ha vinto ben 33 tornei prendo i dati da il quarto set nel 2020 hanno chiuso al primo posto e vinto sei tornei del World Padel Tour nel 2021 hanno chiuso al primo posto e hanno vinto sette tornei del World Padel Tour nel 2022 hanno chiuso al primo posto hanno vinto dieci tornei del World Padel Tour e quattro tornei di Premier Padel nel 2023 hanno chiuso al terzo posto ma perché a lungo Lebron è stato infortunato e Galan ha giocato anche a breve insieme a Yon Sanz hanno vinto quattro tornei del World Padel Tour e quest'anno hanno vinto un torneo di Premier Padel su due tornei disputati quindi si chiude un'era storica come detto 33 tornei in quattro anni e due tornei poche saranno le coppie che riusciranno ad eguagliare i loro numeri quasi sicuramente ci riusciranno forse Coelho e Tapia l'hanno fatto appunto Fernando Belasteghin e Juan Martin Diaz come dicevo questo spianerà la strada a Coelho e Tapia? sulla carta sembra di sì ma io comunque vedo Coelho e Tapia che faticheranno sia contro i Super Pipes quando magari i campi saranno un po' più lenti quando si giocherà indoor sia la coppia Galan-Cingotto che darà filo da torcere ai big in tutti i tornei ora la domanda è con chi giocherà Juan Lebron da qui alla fine della stagione? come detto a Puerto Cabello giocherà al fianco di Momo Gonzalez ad Acapulco che è il prossimo torneo ancora con Ale Galan ma sarà come di Nenno e Pachito a Santander che dopo che annunciarono l'addio giocherò in un torneo strepitoso lasciando sul campo soltanto 10 game in 4 partite? secondo me potrebbe essere un torneo da bianco o nero o escono al primo turno o lo vincono nettamente e poi dopo Puerto Cabello sono tante le ipotesi Lebron vorrebbe giocare con Pachito Navarro c'è stato già un contatto ma Pachito è ancora convinto della coppia con Sancio non vuole mollare dopo soli due tornei e quindi ci sta comunque pensando Lebron forse ha preso tempo un paio di settimane ancora per provare a convincere Pachito e Sancio che hanno iniziato malissime arriate perdendo contro Esbri e Avi Rico Dasi e perdendo comunque in semifinale a Doha però dove sono stati dominati da Galan e Coelho 6-0-6-4 non hanno mai dato l'impressione di poter competere anche minimamente con la coppia che poi ha vinto nettamente il torneo dominando in finale anche Javi Garrido e Mike Gianguas altre ipotesi si sposta di nuovo a sinistra e gioca con Yon Sanz prende di nuovo Teio che con Ruiz sta andando male malissimo e contra Paredde nelle ultime ore ha lanciato una bomba ossia che Juan Lebron abbia già deciso di andare al fianco di Cochinieto e quindi questo porterà e porterebbe anche la rottura della coppia Cochinieto-Yon Sanz e si aprono tante possibilità sempre c'è Momo Gonzalez che è libero a sinistra che potrebbe andare con Yon Sanz oppure rompersi la coppia Ruiz-Teio che ripeto dallo scorso anno non sta andando per niente bene anche quest'anno è iniziato abbastanza male quindi sicuramente dopo i torni in Venezuela a Puerto Cabello ci sarà un nuovo waltzer delle coppie però la domanda numero uno è con chi giocherà Juan Lebron? secondo voi? scrivetelo nei commenti e secondo voi sempre altra domanda come chiuderanno la stagione Ale Galan e Federico Cingotto? io dico in seconda posizione anche davanti ai Super Pibes aspetto i vostri commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale ciao!